salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre alessio evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi bene in questo video andremo ad affrontare due argomenti che in verità sono correlati l'uno con l'altro per quanto riguarda la prima parte di questo video andremo ad affrontare un argomento che in verità è un bel po di tempo che ci sta a cuore farlo e riguarda il fatto che una infinità e dico una infinità di credenti in tutto il mondo non hanno un luogo dove raunarsi per una serie di fattori ovvero in particolar modo ci riferiamo all'apostasia che ormai ha preso piede ovunque e questo è stato ben profetizzato migliaia di anni fa ovviamente questo argomento poi ci obbligherà in senso lato a trattare anche alcuni aspetti dell'apostasia e in particolar modo vogliamo prendere spunto da uno degli ultimi video che abbiamo fatto che lo vado un attimo a prendere così vi dico il titolo si tratta del del penultimo video prima di questo intitolato risposta a un amico confuso e maltrattato da false religioni e falsi fratelli questo è il titolo che trovate nel nostro canale entrando dentro bene e quindi andremo ad approfondire un pochino di più questo aspetto dell'apostasia perché qualcuno carissimo fratello ci ha scritto dicendo che era un po' scettico da quello che noi abbiamo presentato e bene in questo video proprio andremo a vedere a dimostrare ulteriormente la grande apostasia che regna in questo questo pseudo movimento cristiano e noi normalmente non facciamo nomi ma quando si tratta di grandi movimenti di personaggi molto noti eccetera eccetera i nomi li facciamo e come e anche la legge ci consente di dire che secondo noi il pensiero biblico è questo e non è quest'altro quindi si può tranquillamente fare bene ma prima di tutto vogliamo partire appunto con la prima parte del video vi invito veramente a prestare molta attenzione a quello che si dirà in questo video perché è veramente veramente molto molto importante e sta coinvolgendo una infinità di persone bene allora abbiamo una infinità di persone che non sanno dove andare in chiesa non sanno dove andare a raunarsi ora vogliamo precisare che in questo video non andremo a parlare di quelle persone che usano il pretesto di non avere un luogo dove raunarsi perché loro non hanno nessuna voglia di farlo è semplicemente un pretesto oppure non sono mai nati di nuovo oppure non gli va minimamente di seguire il signore e quando invece loro avrebbero un posto dove andare quindi in questo video non tratteremo di queste persone che sono altrettanto moltissime sono moltissimi i cosiddetti appunto credenti ma che non sono nati di nuovo e che proprio hanno la forma dell'apparenza l'apparenza del bene l'apparenza come dice timodio della pietà ma non hanno la potenza cioè quella vita che ti fa camminare appunto nelle vie del signore quindi in questo video non andremo a trattare quella parte là di credenti ma andremo a trattare a trattare l'argomento che riguarda quei veri credenti che veramente vogliono andare in un luogo per raunarsi e celebrare il culto al signore l'adorazione condividere la parola di dio le testimonianze la comunione fraterna l'amore fraterno eccetera 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 parleremo appunto di questi altri credenti prima di iniziare vogliamo specificare quanto segue non vogliamo fare come il legalismo religioso ultra ortodosso se lo vogliamo definire così noi li chiamiamo i legalisti del web che vanno sempre a cercare i punti e le virgole pur di dare addosso a qualcuno allora che nella parola di dio il termine chiesa indica i credenti nati di nuovo non so se lo sapete ma siamo consci di questo sappia sappiamo già che la bibbia quando si riferisce alla chiesa non si riferisce a quattro mura ma si riferisce a anime viventi che sono nate di nuovo e sono nate di acqua e di spirito e perseguono la via del signore questa è la chiesa di certo non so quattro mura però siamo altrettanto consci del fatto che il peccato non sta dappertutto non è che adesso se io utilizzo un termine come appunto il termine chiesa per indicare invece che la chiesa di gesù cristo quattro mura come dire vado in chiesa ovvero vado al luogo di culto o al luogo delle riunioni non è che per questo io devo essere come fanno alcuni crocifisso ecco questo legalismo religioso ultra ortodosso che veramente lascia molto a desiderare noi lo combattiamo quindi in questo video a secondo come stiamo parlando si può riferirsi ci possiamo riferire alla chiesa come le anime o come la struttura che ospita le anime insomma il buon senso penso che sia un qualcosa che venga da dio ok ok volevamo precisare questo scusate se lo ritenete patetico ma d'altronde molte situazioni che ci circondano appunto come quella del legalismo religioso è veramente patetico bene tutto quello che diremo tutto quello che leggeremo della parola di dio lo faremo lo diremo lo leggeremo sempre nel nome del padre nel nome del figlio nel nome dello spirito santo che è benedetto in eterno a me gloria a dio bene allora vogliamo subito entrare in argomento nell'oggetto e vogliamo un po sbrigarci vediamo un po se riusciamo a non farla troppo lunga allora al di là di quello che vi dicono quei quattro gnosticini da quattro soldi nel web che noi non dobbiamo ascoltare loro per imparare la parola di dio di certo non è la massoneria e l'ognosticismo che deve insegnare la bibbia alla chiesa di gesù cristo ecco in questo caso per chiesa si intendono le anime non le mura che vi dicono una marea di sciocchezze ok e per avallare queste sciocchezze prendono un male ma un male non può annullare una verità ok il fatto che alcuni credenti o molti credenti facciano il male questo non significa che poi si può con questa azione giustificare che non andrebbero prese nella parola di dio le verità che i vi si trovano molto semplice ora strada facendomi mi spiegherò meglio gloria a dio uno dei comandamenti principali ce ne sono una infinità adesso ne coglieremo uno uno dei comandamenti principali della parola di dio proprio dalla genesi questo fino all'apocalisse è che il signore ha costituito prima un popolo che è stato appunto il popolo di israele e lui è ancora popolo di dio e poi ha costituito un altro popolo che è la chiesa di gesù cristo ma adesso vogliamo riferirci a quest'ultimo ovvero la chiesa di gesù cristo quando il signore costituisce popoli un popolo una famiglia lo costituisce come corpo di cristo quindi come unità il cui capo di questo corpo come dirà la stessa parola è cristo stesso ma il corpo per essere corpo deve essere un corpo unito se il corpo non è unito ok è un corpo che è storpio ok bene quindi che il corpo sia unito che il corpo stia insieme che il corpo si aiuti gli uni con gli altri che si amino gli uni con gli altri che portino avanti l'opera del signore gli uni con gli altri è una verità assoluta è una verità razionale è una verità biblica il credente è chiamato a essere inserito in un corpo in una chiesa ok questo è molto importante che poi vi vengono a dire che questo non è vero e che delle ci sono delle persone che vi vogliono attrarre a sé perché vi vogliono spremere allora il fatto che ci siano i cattivi e ci sono e ci sono tanti falsi maestri come vedremo questo video tante false chiese tanti falsi apostoli tanti falsi pastori tanti falsi ministri tanti falsi evangelisti tanti fa tanti lupi rapaci questo non ha nulla l'altra cosa che vi abbiamo detto che è la verità che c'è un corpo c'è una parola c'è ci sono dei comandamenti quindi cerchiamo di distinguere le cose allora togliamo il male e riteniamo il bene noi dobbiamo sempre esaminare le cose da un punto di vista biblico e poi anche razionale perché essendo stati creati a immagine e somiglianza di dio ma è chiaro che il signore ci ha creati razionali e non come gli animali che sono istintivi è un'altra cosa bene quindi se c'è un punto una chiesa una struttura che fa il male ma non andare lì ma non per questo tu sei giustificato di non andare da nessuna altra parte consci del fatto che molto spesso i credenti non sanno dove andare a sbattere la testa lo sappiamo perché siamo nati l'altro ieri ma questo video serve proprio per dare un indirizzo biblico a quei credenti che sono giovani siamo consci del fatto che sono molti giovani che ci stanno seguendo e che stanno gettando radici nell'evangelo bene noi nel nostro piccolo vogliamo dare una parola biblica di indirizzo a questi credenti su come fare e come comportarsi questo è molto importante il signore ha costituito un corpo ha costituito anziani ha costituito ministri proprio per portare l'insegnamento biblico del sano e vero e unico e saldo e eterno evangelo buona novella buona notizia eterna in questo evangelo c'è potere per poter salvare e dare vita eterna ok allora al di là del fatto che nella parola di dio c'è proprio scritto che noi dobbiamo frequentare la chiesa infatti questi ignossicini che vi dicono il contrario che non c'è scritto vi dimostra per l'ennesima volta che questi si vogliono mettere a insegnare biblica senza avere nessuna competenza e l'unica cosa che vi diranno è sempre la menzogna non gli crediate allora vogliamo entrare nella navigazione virtuale veramente vorrei andare un po a correre ecco perfetto allora io però voglio voglio vedere se l'ho preso l'ho preso questo se è questo ok l'ho preso allora da questo momento siete con noi benissimo guardate quello che dice la parola di dio e non ha le sue evangelisti allora vogliamo andare in efesi allora efesi 4 ok facciamolo un po più grande efesi 4 ok quindi efesi 4 dal 3 al 6 allora studiandovi di serbare l'unità dello spirito per il legame della pace vi è un corpo unico un unico spirito come ancora voi siete stati chiamati per l'unica speranza della vostra vocazione vi è un unico signore una fede un battesimo un dio unico padre di tutti il quale e soprattutto le cose fra tutte le cose in tutti voi notate come l'apostolo paolo ha scritto molte epistole tutte le epistole che l'apostolo paolo indirizzava indirizzava queste epistole a delle chiese a delle strutture il credente non è stato chiamato a vivere una vita da eremita è impossibile se tu dici di amare qualcuno e non frequenti quel qualcuno le tue opere smentiscono le tue parole qui dice studiandovi di servare l'unità dello spirito con il legame della pace vivere in pace gli uni gli altri perché quando noi ok entriamo in una comunità ciascuno di noi ha le sue abitudini il proprio carattere ok e non è che uno entra il primo giorno e già è l'apostolo paolo no c'è un percorso da fare ci sono cose ancora che dobbiamo lasciare indietro il signore opererà nella nostra vita e nel nostro carattere tutto il tempo che staremo in questo mondo ci sarà sempre qualcosa da lasciare ci sarà sempre qualcosa che noi diremo faremo che può offendere qualcuno è normale tutti lo facciamo ecco perché il signore ha detto nella sua parola sopportatevi gli uni gli altri non sto dicendo che c'è lecito peccare no noi non dobbiamo peccare ma vuoi o non vuoi sbaglieremo vuoi o non vuoi peccheremo non che portiamo una vita di peccato ma vuoi o non vuoi peccheremo anche se io non voglio peccare ma una parola un pensiero un'azione peccaminosa tutti la facciamo tranne che i legalisti del web loro sono gli immacolati loro veramente non peccano mai ma questa è un'altra storia infatti stanno sempre a mettere peccati e errori degli altri parlo di quelli buoni non degli apostati che vanno denunciati non dei massoni che vanno denunciati parlo di quelli buoni loro sono sempre pronti a mettere i peccati degli altri ma non ho mai visto che si sono messi loro sul web del dell'inquisizione dicendo guardate noi abbiamo fatto questo strano sta cosa qua quindi noi dobbiamo studiarci di non pecare ma se io ti metto per iscritto tutti i tuoi pensieri tutti nell'arco di 24 ore sai quanti peccati trovo io in quei pensieri quindi chi è senza peccato chi non pecca mai chi dice i legalisti del web ma lasciamo stare loro a parte loro noi comuni mortali ecco quindi il vincolo della pace il legame della pace o vincolo della pace come dirà altrove o altre versioni significa sopportarci gli uni gli altri perché il signore ci ha messo in una comunità e come dice qua in un unico corpo alleluia ma non è tutto qua vogliamo andare in filippesi filippesi 2 come l'ha preso eccolo qua allora filippesi 2 dal 2 al 5 scritto rendere compiuta la mia allegrezza avendo un medesimo sentimento sta parlando di una comunità se uno dice di amare i fratelli e poi non li frequenta dov'è il tuo amore se tu dici di amare il tuo partner e poi non lo vedi per sei mesi cosa farà il tuo partner nei tuoi confronti dice me molla esatto perché è strano il tuo partner se strano tu dice su strano io ecco appunto c'è da riflettere ok una medesima carità un solo animo sentendo una stessa cosa non facendo nulla per contenzione per vanagloria ma per umiltà ciascuno di voi pregando pregiando altrui più che se stesso non riguardate ciascuno al suo proprio ma ciascuno riguardi anche l'altrui perciò che conviene che in voi sia il medesimo sentimento il quale ancora è stato in cristo gesù sta parlando di una chiesa di un corpo di una unità non c'è amore senza unità non c'è unità senza amore è impossibile se no sono chiacchiere a io sto sto bene a casa mia o io sono presente in spirito o io 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 tutte sciocchezze a noi non ci devono interessare le argomentazioni degli uomini della carne ci deve interessare quello che dice la parola di dio che poi tu non lo voglia accettare che poi tu voglia cercare pretesti perché ci sono alcuni che attraggono le persone per derubarle questo non ha nulla né l'amore né la parola di dio non andare lì da quelle persone ma non per questo puoi annullare la parola di dio è come quelli che per essere stati trattati male da falsi movimenti lasciano il signore che c'entra il signore bene ha capito il fratello che che ci ha contattato che gli abbiamo dedicato un video che una cosa è l'uomo e una cosa è dio il falso che l'uomo si comporti male non va a colpire l'amore di dio l'infinità di dio gloria allo spirito santo ci sarebbero molti altri passi ma se ci mettiamo veramente a fare a portarli tutti sto video dura cento ore allora ebrei 13 l'amore fraterno dimori fra voi non dimenticate l'ospitalità eccetera 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 fra voi i primi discepoli nel libro dei fatti degli apostoli si vedevano tutti i giorni stavano insieme tutti i giorni insegnavano parola di dio tutti i giorni spezzavano il pane tutti i giorni condividevano le cose i beni e tutto quanto tutti i giorni così comincia la chiesa come modello gloria allo spirito santo qualcuno mi ha scritto poco fa io ho dato una bella risposta secca si è completamente contraddetto dice tu non devi adorare lo spirito santo io adoro lo spirito santo e come? io adoro il padre gloria al padre adoro il figlio gloria al figlio e adoro lo spirito santo gloria allo spirito santo non c'è scritto nella parola di dio non c'è un solo caso dove si adori lo spirito santo capra e pseudo credente che non sei altro allora nell'antico testamento adoravano il padre? si nel nuovo testamento hanno adorato il figlio? si per quale motivo io non dovrei adorare lo spirito santo? e il padre e il figlio si rispondimi inoltre lo spirito santo fa un'azione nascosta ecco perché non è così palese ma se vai a investigare bene noterai l'azione dello spirito santo in tutta la parola di dio e noterai come nel nuovo testamento ci si riferisce allo spirito santo dicendo lo spirito santo ben parlò lo spirito santo ben profetizzò quando vai a vedere riferendosi appunto all'antico testamento il passo lo vai a cogliere nell'antico testamento troverai che è Yahweh che parlò che è Elohim che profetizzò appunto padre, figlio e spirito santo sono un solo dio ma tre persone e quindi io adoro tutte e tre prego il padre nel nome di Gesù per la potenza dello spirito santo e adoro il padre adoro il figlio e adoro lo spirito santo se tu non lo fai è un tuo problema ma io non seguo te seguo la Bibbia 1 Pietro 3,8 allora 1 Pietro 3,8 dice siate tutti concordi compassionevoli fratellevoli questo è un linguaggio arcaico pietosi benevolienti vedete che bello che è il linguaggio arcaico non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio nella comunità sta parlando anzi al contrario benedicendo sapendo che a questo siete stati chiamati sta parlando nella comunità oltre che nella vita quotidiana il Signore ha costituito comunità quando il Signore manderà a scrivere al Apostolo Giovanni il libro dell'Apocalisse e Dio se ci fate caso non ha detto scrivi a Giacomino che sta facendo l'eremita sul cucussolo del non so che cosa del Monte Everest no scrivi alle sette chiese Filadelfi a Tiatiri l'Odissea e così via scrivi all'anziano all'angelo della chiesa e poi questa epistola è stata fatta girare e oggi ce l'abbiamo tutti quanti il Signore ha costituito comunità una chiesa ma molte comunità gloria allo Spirito Santo e noi dobbiamo far parte di una comunità vera non comunità apostate come vedremo in questo video dove dove ti vogliono derubare i soldi dove si vogliono approfittare di te dove ti vogliono inserire demoni c'è un po' di tutto in questi ultimi giorni previo rapimento della chiesa ci troviamo immersi come ha detto il Signore dell'apostasia dall'apostasia immersi affogati dall'apostasia ma non dobbiamo scandalizzarci piuttosto dobbiamo fortificarci chi va alla guerra non deve essere no bisogna essere duri bisogna essere forti ma il Signore fa un'opera e il Signore non vuole credenti timidi come faceva Fantozze cosa 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 che l'apostasia va affrontata faccia faccia le persone vanno affrontate come si deve con franchezza il peccato va affrontato con franchezza le cose che non vanno vanno affrontate con franchezza piano 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 lascia che il Signore operi in te bene allora potrei veramente proseguire guardate basta leggere tutta la Bibbia fermiamoci qua noi vogliamo andare proprio a culminare con il famoso ebrei 10.25 a proposito che gli gnostici vi dicono non è scritto da nessuna parte che uno deve avere una chiesa ok facciamo invio eccola qua non abbandonando la comune nostra radunanza questo vale anche per i cattolici da quando sono bambino che sento i cattolici che dicono non è mica scritto che bisogna andare in chiesa ecco qua ebrei 10.25 ovviamente quando tu all'apostata all'ognostico a quello che non vuole sapere niente di Dio gli presenti la verità lui non non china il capo e dice hai ragione ho sbagliato no questo ti dimostra che loro la verità la odiano la calpestano e dalle azioni che loro procacciano che tu li riconosci quindi oltre che è biblico oltre che sta dalla genesi all'apocalisse oltre che è razionale oltre che il fondamento dell'amore è la comunione le famiglie non possono essere divise quando sono divise è un guaio e la società si sgredola e la nostra società si è sgredolata proprio per la divisione delle famiglie che poi la divisione delle famiglie ha portato violenza nei figli promiscuità sessuale vite disordinate persone non oneste e così via quindi non abbandonando la nostra comune raunanza come oggi diremo molti usano fare e non stiamo parlando in questo momento di quelli che abbandonano la comune radunanza perché sono carnali perché non gli va e no stiamo parlando adesso questo video si vuole riferire a quelle persone che invece vogliono andare in una comune radunanza ma non lo possono fare per una serie di motivi questo è per voi adesso vi diremo come fare ok quindi allora penso che fino a qua il concetto sia chiaro io penso che qualsiasi persona un po' razionale che abbia un pochino di spirito santo non ha bisogno di ulteriori dimostrazioni argomentazioni di ulteriore parola di Dio penso che sia più che chiaro e più che sufficiente per qualsiasi persona sia in buona fede è chiaro questo no non mi sto inventando niente non ho tirato fuori una nuova dottrina non sono stato colpito da un meteorite non ho visto visioni non ho visto angeli non ho fatto sogni non ho visto niente è tutta parola di Dio ok allora in questo momento c'è un problema molto serio serissimo questo vale per te vale per me e vale per tutti che quelle persone che sono veramente nate di nuovo sono veramente figli di Dio vorrebbero tanto frequentare una chiesa regolarmente vorrebbero appartenere a un corpo vorrebbero gustare della dell'amore dei fratelli della compagnia dei fratelli e questo qui ebrei 10 25 lo ritroviamo nell'antico testamento nel salmo 133 quanto è buono quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme vedete il nuovo testamento conferma sempre l'antico e viceversa quindi anche nell'antico testamento c'è questo comandamento questo è un comandamento non è che il signore mette le parole così le butta lì no la sua parola è purgata col fuoco quindi ci sono un'infinità di fratelli nel mondo ma adesso vogliamo parlare della nostra nazione noi siamo italiani ci troviamo in Italia e quindi parliamo a noi e anche a quelli che ci ascoltano dall'estero perché noi siamo grazie a Dio molto seguiti da due nazioni la prima nazione al mondo che ci segue è la Germania noi siamo arrivati anche in quattro settimane a circa mille visualizzazioni il picco è stato questo in quattro settimane e se no normalmente sono non mi ricordo quante quattrocento cinquecento non lo so non mi ricordo più adesso è un po' che non lo vedo e la seconda nazione che ci segue dall'estero è la Svizzera che sta sotto la Germania io pensavo che erano gli Stati Uniti invece no gli Stati Uniti sono veramente pochi e quindi salutiamo tutti i fratelli e gli amici che ci seguono dalla Germania che Dio vi benedica allora viviamo in un momento storico molto particolare siamo entrati praticamente nell'ultima decada che il Signore da un momento all'altro suonerà lo shofar la tromba e la Chiesa sarà rapita in questo frangente noi dovevamo già aspettarci da un pezzo come è avvenuto che l'apostasia avrebbe creato un disastro un disastro spirituale senza senza antecedenti a tal punto che ormai tutto è stato conquistato dall'apostasia tutti i movimenti sono stati conquistati dall'apostasia tutti tutti in Italia non ce n'è rimasto uno che non sia stato conquistato tutte le cupole poi ci sono alcune cupole quando parlo di cupole parlo dei presidenti dei capoccia delle grandi organizzazioni questo ve lo posso dire io proprio direttamente ma lasciamo stare in alcune di queste organizzazioni sono sono rimasti pochi pochi pastori che tengono duro e si guardano il grece lascia stare perché non escono c'è tutto un discorso alcuni non vedono oltre il proprio il proprio naso perché sono semplici altri non possono toccare niente perché il signore sta operando e come scritto grano e pula lascia che camminino insieme lascia guarda che fare il pastore non è semplice io parlo dei veri pastori uno arriva sul web fa quattro video dice quattro cose e se pensa già di aver capito tutto è molto difficile è molto difficile ci sono tante cose in più c'è l'umanità che alle volte ti limita sto parlando di quelli buoni non di quelli cattivi quindi in tutto questo mare di apostasia ci sono alcuni pastori ministri evangelisti quello che è che tengono duro e stanno lottando con delle pressioni incredibili che voi non vi potete neanche immaginare perché non ve le veniamo a dire voi io ho visto cose addirittura pastori che si dimettono e dice mi dice ah ma se è dimesso non se è dimesso è stato tolto da quei cani che stanno sopra e che la pagherete cara e avete capito a chi mi riferisco la pagherete cara aver tolto il servo di Dio dopo decenni la pagherete cara molto cara molto cara e già la state pagando cara ma questa è un'altra storia a pioppare peccati a sani ministri per toglierli con la menzogna questo fate voi che state nelle cupole la pagherete cara ma adesso non è per voi questo abbiate pazienza io ho visto tante cose allora e quindi ci sono tanti tanti credenti che vorrebbero andare in una chiesa di sana dottrina e quando vanno nelle chiese trovano uno scempio pastori che se ne approfittano pastori pastori ministri quello che ti ha apostoli poi c'è la pagliacciata degli apostoli lasciamo stare ministri di culto che stanno lì sopra che ti raccontano le barzellette uno arriva là che ha una marea di problemi figli che si drogano figli malati genitori che stanno in fin di vita problemi di lavoro problemi di salute vanno lì per pregare il Signore per consolarsi per sentire la presenza di Dio per sentire un buon sermone no perché il sermone è buono perché è un buon predicatore no un buon sermone perché si predica la parola di Dio vera e cruda com'è questo è un buon sermone e no che te devo mantenere sveglio che te devo far sentire qualcosa tu non devi sentire niente tu non sei chiamato a sentire tu non sei chiamato a seguire sogni sentimenti tu sei chiamato a seguire la parola di Dio poi se il Signore ti fa fare un sogno come a me ti fa a sentire la sua presenza come la sentiamo tutti questo è un altro discorso gloria a Dio benvenga del biblico ma noi seguiamo la parola di Dio e non le emozioni e quindi le persone vanno in chiesa per cercare queste cose se trovano uno che sta lì sopra a fare lo show a fare il barzellettiere perché magari nella vita avrebbe voluto fare teatro e invece si è messo a fare pastore ma di che stiamo a parlare o si mettono a chiedere soldi o si mettono a organizzare cene cene tutti i giorni fa collette collettine tutti i giorni o si mettono a predicare aberrazioni apostasia o si trovano con movimenti dove ti creano un movimento dello spirito satanico con cadute per terra all'indietro o battesini in acqua indemoniati che adesso parleremo di questo e no come mi scrisse un carissimo fratello che io amo e rispetto tanto perché è un vero figlio di Dio ma che non è così e adesso te lo dimostrerò e si trovano uno scempio del genere davanti e devo dire parliamo dell'Italia ma anche del mondo che una infinità di credenti più del 50% molto più del 50% molto più non hanno un luogo dove raunarsi non c'è perché si sono tutti o venduti o dati c'è un precedente nell'Antico Testamento e la storia si ripete dice la Bibbia Elia era rimasto completamente solo tant'è che disse al Signore Signore sono completamente solo e il Signore gli dice ce ne sono altri 7000 e oggi è così ce ne sono altri 7000 ma sono nascosti sono pochi sono la minoranza la greggia è piccola c'è crisi di chiese tanta io c'è una domanda che ogni volta che me la fanno mi arriva una spada qui al cuore quando mi scrivono e mi dicono dammi una chiesa dove andare io mi metto le mani nei capelli non lo vuoi accettare ma fa come te pare senti non mi importa niente con tutto il rispetto parlando queste cose sono bibliche sono state profetizzate e allora fratello noi però come possiamo fare ecco in una chiesa postata non ci puoi andare alcuni dicono di sia anche persone che mi stanno vicino ma io seguo la parola di Dio rispetto ma seguo la parola di Dio il Dio creò il cielo e la terra e separò la luce dalle tenebre punto dal primo capitolo troviamo questo principio biblico non c'è comunione tra luce e tenebre altrimenti un po' di lievito disse Gesù fa lievitare tutta la massa punto e basta fine senza starci troppo a girare intorno e allora come fare dice io sono solo sono sola non so dove andare e ho bisogno di una chiesa appunto hai bisogno di una chiesa non di una grotta di cialtroni che prostituiscono l'Evangelo se sicuramente molti di voi state così allora pregate Dio dobbiamo pregare che vi facesse trovare almeno una persona perché la chiesa la riunione la riunione comincia da due dice la Bibbia vedete noi prendiamo la Bibbia dice ovunque due o tre sono radunati sono io in mezzo di loro questo lo disse Gesù trovate almeno una persona due persone siete se poi siete tre meglio riunitevi in casa periodicamente significa settimanalmente vedete voi secondo i vostri impegni una volta a settimana come come io lì lì non metto bocca già siete molto appesantiti pensa se te metto ulteriori ok almeno una volta a settimana state insieme decidete voi quanto tempo avete a disposizione e fate una piccola riunione che dovete fare guarda state insieme fate una piccola preghiera lodate un po' il Signore passate non lo so se ce la fate una mezz'oretta a lodare il Signore a pregare a lodare il Signore circa mezz'ora vi mettete seduti per pregare o intorno a un tavolo o su un salottino state lì insieme e lodate il Signore poi aprite la Bibbia leggete un passo e state un po' di tempo insieme e andate avanti così andate benissimo gli apostati delle chiese vi diranno no questo non viene da Dio ma che fai siete degli isolati siete qua siete là fatelo entrare da qui e fatelo uscire da là impara a leggere la Bibbia impara a credere a quello che dice la Bibbia impara ad ascoltare i veri servi di Dio come dice la Bibbia ma impara a rifiutare chi si vuole far passare per servo di Dio ed è servo dell'Antichristo questo è il mio è la parola di Dio che io vi porto la parola di Dio che io vi porto nelle nelle chiese di di Gesù Cristo allora Romani 16.5 è scritto salutate ancora la chiesa che è in casa loro i primi credenti quando sono usciti fuori dalla sinagoga si riunivano in casa prima Corinti 16.19 le chiese dell'Asia vi salutano quindi c'erano già delle chiese che anche non si riunivano in casa queste cose c'erano sì è vero ma c'erano anche Aquile e Priscilla insieme con la chiesa che è nella loro casa quando vi riunite in casa siate prudenti attenzione a chi fate venire siate allerta giudicate gli spiriti no che io non giudico lascia attare chi non vuole giudicare voi giudicate tutto prima Corinti 14 mi pare 29 giudicate ogni cosa provate gli spiriti occhio a chi fate venire occhio attenzione muovetevi con saggezza l'amore non annulla la prudenza non è chiunque venga e dica eh gloria a Dio gloria a Dio ok gloria a Dio benissimo vediamo se il comportamento tutto quello che fai le azioni è gloria a Dio gloria a Dio gloria a Dio eh sì gloria a Dio gloria a Dio e poi te buggerano Colossesi 415 colossesi 415 riguarda qualsiasi la sarà letta fra voi fate che sia ancora letta nella chiesa dei laudicesi e che ancora voi leggiate quella che vi sarà mandata in laudicea questo non c'entra niente perché l'ho preso non lo so filemone vabbè comunque allora di letta appia archippo nostro compagno di milizia e alla chiesa che è in casa tua purtroppo a magli estremi estremi rimedi una cosa è certa non potete stare senza una chiesa senza comune raunarsi qualcuno dirà fratello Alessio io sto sperduto nel paesino del batte la pesca scusate il termine so solo io che devo fa Dio è grande ti porterà avanti se non dipende da te ti porterà avanti prega tutti i giorni che ti faccia trovare qualcuno con cui pregare condividere la sua parola amén Dio è grande non fare il problema che hai per quanto possa essere grande più grande di Dio ma fai Dio come deve essere come è più grande del tuo problema questa è una lezione che dobbiamo imparare tutti noi giorno dopo giorno fin tanto staremo in questo mondo cominciando da me è una grande lezione di vita difficile siamo di carne siamo fragili siamo deboli ma la grazia di Dio è infinita penso di essermi spiegato penso di aver reso il concetto spero di sì me lo auguro se non è stato chiaro scrivetemi ok se ho sbagliato fatemelo presente se ho detto cose antibibliche fatemele presente rimedierò io sono cresciuto con queste parole con questo insegnamento perché è l'insegnamento che io vedo anche nella parola di Dio grazie a Dio io sono nato prima degli anni Ottante quindi prima dell'apostasia e quindi grazie a Dio che ho avuto la benedizione di crescere con persone che non erano apostati e questa è una grande benedizione queste cose mi sono rimaste e mi hanno portato avanti da quando sono fanciullo gloria allo Spirito Santo come dicono alcuni non lo dare allo Spirito Santo vergognati che che Cristo ti sgridi ok allora detto questo abbiamo parlato di apostasia ci sono una marea di persone che non sanno dove andare in chiesa e si trovano in queste condizioni ok perché non ci sono questi mascalzoni che vanno vendendo la falsità come vendono come si vende la falsità come si vende Satana come si propone a te con le corna e il bastone o il forchettone o come come si dica come si propone Satana a te tappare ti dice sai io sono Satana si lo fa con gli stregoni con quelli che proprio lo cercano proprio sfacciatamente quello si ma chi non lo cerca chi non vuole avere niente a che fare con lui come si propone Satana brutto com'è alcuni dicono è un angelo di luce è falso Satana non è un angelo di luce era un angelo di luce ma è proprio scritto che un fuoco è uscito fuori da lui e il fuoco brucia e lo ha distrutto e fa schifo è brutto Satana è brutto non è un angelo di luce non è bellissimo è falso non è biblico dire questo Satana fa schifo è brutto se vedi Satana te pia un corpo per quanto è brutto quindi come si presenta Satana brutto com'è no si presenta come angelo di luce ma è una maschera e quindi quando Satana si presenta a te non è che si presenta con la pura menzogna no Satana si presenta con 99 verità e una menzogna e quella menzogna andrà poi a colpire le 99 verità ecco come riconoscere il movimento apostata il movimento apostata i movimenti apostati si presentano a te con un fiume di verità guardate quello che fa il berillo di turno ti dice tante cose vere ti mette tanta informazione poi in mezzo ti ci mette la menzogna e te ci fa capire niente le persone instabili ci cascano in particolar modo chi ci vuole cascare e così sono i movimenti apostati ti presentano un mare di verità e in mezzo quel poco di menzogna che ti va a distruggere tutto il resto nello specifico ci riferiamo al penultimo video che sta qua nel nostro canale eccolo qua risposta a un amico confuso e maltrattato da false religioni e falsi fratelli eccolo qua questo video noi non sapevamo se fosse stato un video da parte di Dio ma a questo punto noi pensiamo che questo sia un video da parte di Dio perché intanto ha aiutato quella persona quella persona ha capito e qui c'è l'opera di Dio e quella persona ha capito che non c'è da rifiutare il Signore per colpa di dei mascalzoni come sono questi che adesso farò nome e cognome perché noi facciamo i nomi e i cognomi dei personaggi grandi e non dei gnosticini o di quelli piccolini o del canalino piccolo quelli non ci andiamo a sporcare per loro ma quando so cose grosse tipo noi diciamo che il fratello Giuseppe è un fratello tra virgolette intanto è anti-trinitario e poi sta mandando allo sfraccello una marea di persone che gli sta dicendo che in Sud America si troverà sicurezza quando ci sarà la grande tribolazione e quindi di vendere tutto quello che uno ha case e proprietà e andare in Sud America quando il libro dell'Apocalisse parla chiaro e dice che durante la grande tribolazione tutte le città del mondo saranno distrutte tutte le montagne saranno abbassate distrutte tutte le isole saranno distrutte il terremoto ci sarà in tutto il mondo l'asse terrestre moriranno solamente in due occasioni abbiamo fatto i conti circa 4 miliardi e 900 milioni di persone queste sono persone apostate che non dicono cose bibliche e io devo tacere non devo avvertire la Chiesa perché non devo giudicare tu non giudicare io giudico e tutto giudico prima conenti 14 e 29 imparate l'italiano dice tu non devi condannare amico mio condanno il peccato condanno l'apostasia nel nome di Gesù Cristo e lo sgrido nel nome di Gesù Cristo tu fai quello che vuoi io la conosco la Bibbia se ragioni così mi paragono con te a differenza di te io la Bibbia la conosco e la predico e voglio aiutare quelle poche persone che sono in buona fede perché siamo pochi siamo la gregge è poca il Signore rapirà la sua Chiesa sì il 5% è Chiesa il 95% non è Chiesa è così alto la gregge è molto poca se io vi dico quello che io ho visto con i miei occhi io ho visto quasi 100 persone essere salvate quasi tutte battezzate di Spirito Santo vi sto parlando di decenni addietro sapete quante sono rimaste in piedi circa queste su 100 persone circa 5 dati allarmanti è una doccia fredda impara a correre e fortificati questa è la situazione diamoci una svegliata quindi noi questa persona è stata colpita ci ha scritto qui leggiamo la sua mail la sua carta e quindi questo video è correlato a quest'altro video qua quindi dovete sentirvi questo video qua bene qui si andrà a confutare il movimento ultima riforma si chiama così noi siamo andati sul sito www.ultimariforma.it l'ultima scrivetelo senza apostrofo entrate nel loro sito quindi è proprio il sito ufficiale e noi ci siamo stampati noi ci siamo stampati sulla voce il battesimo in acqua molto più che un simbolo ci siamo stampati quello che crede questo movimento a proposito del fratello caro fratello che saluto non faccio il nome per privacy ti saluto caro fratello e ti rispetto perché tu sei un fratello vero con la F maiuscola e quindi bisogna che io ti rispetti però lui è un po' perpresso su quello che noi abbiamo detto bene io adesso caro fratello a te e a chiunque sia necessario andrò a dimostrare come è scritto nella parola di Dio anche in Timotio e anche in Tito di turare la bocca Tito dice di turare la bocca a costoro che promuovono false dottrine turare la bocca di riprendere di sgridare dirà a Timotio l'apostolo Paolo ci attireremo tanti nemici servire il Signore è persecuzione dire la verità è persecuzione Giovanni non stette zitto il Battista sto parlando del Battista il Battista non stette zitto denunciò gli italiani non ho la capoccia chissà che non me la taglino pure a me se Dio lo permetterà sì se Dio non lo permetterà nulla toccherà un capello del mio capo sia fatta la volontà del Signore allora questo movimento noi lo andremo a confutare perché anche la legge ci dice che io posso tranquillamente dire quello che tu dici non corrisponde a quello che dice la parola di Dio tu dirai no corrisponde e allora vabbè si farà il dibattito biblico quindi si può tranquillamente dire poi io il tuo sito non lo faccio vedere quindi non mi puoi citar manco per copyright e fammi chiudere il video quindi voi andate su www.l'ultimariforma.it l'ultima senza se lo scrivete sulla barra senza apostrofo e cadete appunto sul loro sito poi andate sulla voce il battesimo in acqua molto più che un simbolo troverete questo ok allora questo movimento dice cose antibibliche e questo fratello che ci ha scritto si è trovato in questo movimento e gli sono successe cose che a lui non gli hanno fatto bene ok allora loro dicono vediamo se è vero che non sono un movimento che non non promuove la vera Bibbia allora molti sono ingannati loro dicono indotti a credere che basti chiedere a Gesù di entrare nel tuo cuore per avere la salvezza eterna se lo fai col cuore sì se lo fai col cuore sì se tu veramente confessi col cuore e invochi col cuore il nome di Gesù sei salvato ah poi se lo fai in modo ipocrita se lo fai come scongiuro vabbè quello è un'altra cosa non mischiamo le due verità ma per essere salvati bisogna credere e questo è per grazia e chi crede e invoca e confessa il nome di Gesù è più che sufficiente per essere salvato sì è l'esatto opposto di quello che tu dici basta e avanza vuoi che te lo dimostro scritturalmente e facciamo che ci stiamo a fare noi Alessio Evangelista che ci sta a fare dice per rompermi le scatole per romperte le scatole no per denunciarti che quello che tu dici non è biblico allora Romani Romani 10.13 dice impero che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato tu dici qua che non basta cominciamo a vedere che ci sono cose che non vanno non vi basta loro fanno riferimento al libro degli atti e basta ovvero fanno fanno proprio pongono grande enfasi attenzione la parola di Dio è suddivisa in libri ci sono libri dottrinali libri sapiensali libri profetici libri storici atti degli apostoli non è un libro dottrinale è un libro storico che poi ci possa essere qualcosa di dottrina questo può essere un altro discorso ma non è un libro dottrinale la dottrina non si va a cercare nel libro dei fatti degli apostoli si va a cercare nei libri dottrinali il primo su tutti nel nuovo testamento sai bene qual è romani ma prendiamo fatti degli apostoli atti 2.21 e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del signore sarà salvato voi qui dite molti sono ingannati indotti a credere che basti chiedere a Gesù di entrare nel tuo cuore per avere la salvezza eterna basta e avanza se lo fai col cuore certo dice ma forse sei un po' troppo sei un po' troppo duro Alessio ma magari nel contesto loro vogliono dire o se continui a leggere continuiamo a leggere vediamo hai ragione vediamo diamogli qualche qualche altra possibilità qui stiamo parlando di persone che non so se so ministri cioè so persone che rappresentano un movimento quindi so persone che dovrebbero sapere come scrivere come quando noi facciamo i video se uno si mette a fare un video deve sapere signore mio quello che dici se no limitati se sei nato da 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 giorni e te vuoi metti a fare i video limitati a quel poco che il signore sta facendo in te vai piano non corri piano piano attenzione ok quindi qui io presumo che dovrebbero essere credenti maturi un credente maturo già cominciato male andiamo avanti allora vediamo se dobbiamo tornare continuano se dobbiamo tornare alla vita di cui leggiamo nel libro degli atti quindi loro fanno enfasi sul libro degli atti e dicono se dobbiamo tornare alla vita di cui leggiamo nel libro degli atti noi rispondiamo dobbiamo tornare alla vita del libro degli atti sì ma con la dottrina che si trova dopo il libro degli atti io non posso andare alla vita del libro degli atti ed escludere la dottrina che si trova dopo il libro degli atti il mio fondamento è la parola di dio e la dottrina nella sua unità la somma della tua parola dice il salmo 119 è verità e non un verso isolato fuori dal contesto o no se dobbiamo tornare alla vita di cui leggiamo nel libro degli atti dobbiamo avere il giusto fondamento appunto il fondamento è la dottrina di Cristo è la dottrina che troviamo dopo il libro degli atti no senza scartare i quattro vangeli in Giovanni 3 Gesù afferma che se una persona vuole nascere di nuovo deve nascere di acqua e di spirito bene Gesù non ha mai parlato di una preghiera della salvezza ha insegnato che dobbiamo ravvederci davanti a Dio e l'importanza del battesimo in acqua e nello spirito santo allora questa cosa è un po' ambigua anche nel mezzo nostro a proposito della preghiera della salvezza se voi conoscete un pochino la parola di Dio voi sapreste che la salvezza si ottiene per grazia e l'accesso alla grazia si concretizza in virtù della fede e la fede ci porta a credere e a confessare quando io confesso che Gesù è il Signore come abbiamo potuto vedere io entro nella salvezza in automatico se lo faccio col cuore se invoco col cuore il Signore quando una persona predica l'Evangelo a uno che con tutto rispetto uno Zulu che non sa niente e gli predichi il Vangelo e quello veramente crede lo Spirito Santo entra e opera in lui e non sa niente e tu in quell'occasione gli dici vuoi fare una preghiera come quello si come si fa come facevo io quando avevo cinque anni che volevo entrare dentro tutte le chiese che vedevo e poi dicevo voglio pregare e prega e come si fa allora ripeti con me questa è una confessione di fede che tu fai in un caso eccezionale che poi lui andrà avanti nelle con le proprie gambine mediante la potenza dello Spirito Santo che lo riempie lo guida e si usa anche dei fratelli anziani per insegnargli la dottrina come scritto nella parola di Dio tutto questo non viene annullato dalla scrittura che poi ci sono alcuni che si comportano male che lo fanno male che ci sono falsi ministri false situazioni lasciamo stare adesso questo parliamo del vero non c'è niente di male in tutto questo come lo vogliono presentare alcuni come dire far fare la preghiera della salvezza a uno lo vogliono presentare come il male del mondo è come succede anche nel nostro mondo cerchiamo di avere un buon discernimento o no pregare uguale invocare invocare uguale salvezza dice Alessio ma sei un po' drastico non è sufficiente non è sufficiente quello che abbiamo detto fino adesso non è sufficiente quello che abbiamo letto fino adesso non è sufficiente quello che abbiamo visto in questo video che gli hanno fatto fare a questo fratello non è sufficiente tutto questo andiamo avanti all'epoca in cui era su questa terra adesso ce lo potevano scrivere però vabbè all'epoca in cui era su questa terra non poteva battezzare nessuno in Cristo e nello Spirito Santo perché era ancora nel vecchio patto vabbè se sei un ministro di Cristo ti invito a non scrivere vecchio come mi hanno insegnato a me gli anziani se sei un ministro dovresti sapere che vecchio è dispregiativo si dice antico vabbè dai ci sta all'estero lo usano un po' tutti però qui in Italia piccola annotazione ma questo non dimostra niente quindi perché era ancora nel vecchio patto Gesù non era ancora morto sulla croce e lo Spirito Santo non era ancora sceso sulla terra ma dopo la croce vediamo l'adempimento della nuova nascita di cui Gesù parlò in Giovanni 3 tutto questo lo potete seguire dal sito voi entrate l'ultima riforma punti t andate battesimo in acqua molto più che un simbolo oggi è 17 febbraio sono le 10 e 27 e ad oggi è così poi se dopo questo video lo andranno a modificare ma comunque rimane che la fede del movimento ultima riforma di Stottergang come si chiama non mi ricordo è questo è il loro pensiero è questo poi prosegue dice in Atti 2 Pietro si alzò e disse alla folla ravvedetevi come Gesù diceva e ciascuno di voi sia battesato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo mostrandoci per la prima volta il pieno Vangelo dalla Pentecoste in poi ogni battesimo in acqua è fatto nel nome di Gesù e questo viene messo in grassetto viene fatto nel nome di Gesù per il perdono dei peccati seconda anomalia il battesimo fa parte del Vangelo del processo di salvezza è molto più che un simbolo queste persone quando ti battezzano non ti battezzano nel nome del Padre nel nome del Figlio nel nome dello Spirito Santo ti battezzano nel nome di Gesù quindi da una parte noi vediamo un movimento che dice che c'è una Trinità che c'è un Padre che c'è un Figlio e che c'è uno Spirito Santo e poi vediamo dall'altra parte che quando ti fanno il battesimo nell'acqua non ti battezzano come è scritto in Matteo 28 nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ma ti battezzano nel nome di Gesù questa è una aberrazione biblica noi abbiamo fatto un video tu vai qua nel nostro canale scrivi battezzino ci sono due video che noi abbiamo fatto che sono lo stesso video e sono questi qua eccolo qua si intitola ce n'è un altro battesimo di Spirito Santo no non è questo è questo qua battesimo di Giovanni di Gesù Trinitario pedobattesimo studio biblico qui dimostriamo come il battesimo si fa nel nome del Padre nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo e battezzare qualcuno nel nome di Gesù non è biblico una persona ripiena di Spirito Santo come loro dicono di essere una persona ripiena di Spirito Santo può predicare un Vangelo diverso? può commettere un errore biblico così grande? può commettere può andare a toccare il fondamento biblico? cioè noi possiamo avere idee diverse sì ma che essulino dal fondamento biblico cioè che non vanno a toccare il fondamento biblico ma quando un'idea diversa va a toccare il fondamento biblico non possiamo avere idee diverse in caso contrario si è anatemi poi lo stesso video lo trovate sotto un altro titolo battesimo cristiano studi biblici vi consiglio di guardare anche questo la Trinità gli antitrinitari saranno salvati perché io qui dimostro come molte volte l'antitrinitarismo si maschera da Trinitarismo cioè io ti dico sì c'è la Trinità però poi faccio delle azioni e delle opere che vanno a colpire la Trinità azioni e o opere non si può battezzare in acqua qualcuno nel nome di Gesù non è biblico come possiamo vedere cominciamo a notare che questo movimento non presenta una corretta dottrina biblica non è sufficiente loro dicono dalla Pentecorsa in poi ogni battesimo in acqua è fatto nel nome di Gesù Cristo falso è fatto nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo fatti degli apostoli non presenta dottrina la dottrina si trova altrove nei libri dottrinali e senza scartare i quattro Vangeli dove Gesù ha detto dopo essere morto e risorto col corpo glorificato di battezzare nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo fatti degli apostoli ti racconta una storia in modo generale perché ti racconta decenni decenni e decenni di storia in poche righe e non te possono mettere tutto nero su bianco altrimenti avrebbero dovuto scrivere centinaia di libri e non ti porta dottrina ma ti racconta una storia Gesù in Matteo 28 ti sta dando dottrina ti sta dando un ordine non ti sta raccontando una storiella ti sta dicendo di fare una cosa come ordine e decreto e ti sta dicendo di battezzare nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo e tu vai contro quello perché vuoi fondare tutta la tua vita su fatti degli apostoli e vuoi farlo senza dottrina fatti degli apostoli non presenta dottrina presenta storie la dottrina si trova altrove e tu sei un maestro della legge sì davvero non è sufficiente fratello che mi hai scritto ne vuoi ancora c'è è solo l'inizio voi che siete scettici su questo movimento su questi movimenti apostati gente che non sa dove andare in chiesa un povero cristiano che ha scritto disperato e che noi abbiamo aiutato e che qualcuno non è chi mi ha scritto qualcun altro mi ha scritto che gli vuole dare addosso invece di avere pietà e amore per queste persone che hanno sofferto per colpa di farsi i movimenti e io dovrei stare zitto per fare piacere a te io non devo piacere a te io devo piacere a Dio il battesimo in acqua è fatto nel nome di Gesù per il perdono per il perdono dei peccati ah quindi il liquido che lava i peccati non è il sangue di Cristo ma è l'acqua del battesimo salute c'è stato l'arrocco cioè praticamente questi hanno tolto il liquido vero che lava il peccato che è il sangue di Cristo e l'hanno sostituito con un altro liquido il liquido dell'acqua nell'antico testamento l'acqua serviva per i lavacri ma quello che toglieva il peccato nell'antico testamento era il sangue delle vittime o non hai mai letto l'antico testamento come lo chiami tu vecchio per me non è vecchio per me è ancora vigente ecco perché non lo chiamo vecchio è antico quindi quello che lava i peccati è il battesimo e questo sono anche altri evangelici a crederlo sapevate questo non mi voglio mettere a fare troppi nomi molti di voi che ci seguite soprattutto dalla Germania che fate parte di quel movimento i vostri pastori predicano e credono e dicono che quello che toglie il peccato che quando tu ti battezzi ti battezzi e quel battesimo in acqua ti toglie il peccato bushia del diavolo l'unica cosa che può togliere il peccato dal mondo è il sangue dell'agnello di Dio non ci credi? non ci credi eh fratello che mi hai scritto cominci a vedere che so parecchie cose strane che dicono questi qua tu che li difendi e questo video lo faccio perché ti voglio bene non perché ti voglio male allora vogliamo dare un po' di sostanza un po' di fondamento biblico allora 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 vediamo se io vado in Efesi uno punto facciamo uno va no così in cui abbiamo la redenzione per il suo sangue la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia la redenzione per il sangue la remissione dei peccati e per il sangue perché sostituisci il liquido del sangue con il liquido dell'acqua non ti basta vero? mo tu già stai a pensare a tirarmi fuori no? gli assi nella manica come li chiamano loro perché è scritto ci arriveremo i passi che usano loro noi come mi ha detto giustamente il fratello dice informati bene ma infatti come vedi mi sono informato ancora meglio e sono emerse altre cose pensa se poi mi informerò ancora di più e farò un altro video lasciamo stare Colossesi 1 andiamo al verso 14 se non ti basta e leggiamo in cui abbiamo la redenzione per il suo sangue non ti basta Matteo 26 28 Matteo 26 punto 2 8 dice questo è il mio sangue qui è Gesù che parla durante la la celebrazione della Pasqua questo è il mio sangue che è il sangue del nuovo patto il quale sarà sparso per molti in remissione dei peccati qui è Gesù che parla non ti basta io ti faccio una domanda a te ma tu ci credi al Signore Gesù o preferisci credere a quello che senti a quello che te sogni no perché io ho sentito questo proprio l'ho sentito tipico dei giovani della fede come lo facevo anche io quando ero giovane nella fede giovani nella fede imparate a non lasciarvi trasportare e guidare dai sentimenti quello che senti non è la tua guida è quello che è scritto se poi senti qualcosa che è scritto il Signore ti fa sentire qualcosa perché queste cose avvengono e viene convalidato dalla parola di Dio gloria a Dio in caso contrario scarta il sentimento scarta il sogno e lascia la parola di Dio il fondamento è la parola di Dio tutto il resto sentimenti sogni visioni tutto quanto viene sopra non capovolgere la situazione fatti 20-28 mamma mia facciamo così atti 20-28 attendete dunque a voi stessi tutta la greggia nella quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi lo Spirito Santo è una persona razionale che pensa vede ordina decreta legifera e va anche lodato per pascere la chiesa di Dio la quale egli ha acquistata col proprio sangue noi siamo stati acquistati col proprio sangue il battesimo è un simbolo lo dice la parola di Dio è un simbolo noi siamo immersi nell'acqua e usciamo fuori quindi morte al vecchio uomo e vita al nuovo uomo nuova nascita e la parola di Dio simbolizza anche fiumi di acqua viva lo Spirito Santo e la parola di Dio che è acqua io non faccio il battesimo in acqua perché devo nascere di nuovo io faccio il battesimo in acqua dopo che ho confessato ho ottenuto la salvezza sono nato di nuovo e non troverete un solo passo nella parola di Dio dove uno va a fare il battesimo in acqua ed è indemoniato ed è completamente indemoniato escono fuori i demoni anche se tu hai avuto questa esperienza la parola di Dio non la convalida e se succede non convalida la parola di Dio c'è qualcosa che non va è anomalo quella persona non andava battezzata un indemoniato non può essere battezzato un indemoniato non può essere battezzato si battezza chi è nato di nuovo chi ha accettato Gesù Cristo chi ha confessato il Signore come suo salvatore personale salvatore un indemoniato non può essere battezzato non è biblico che tu lo senti che tu lo pensi che tu hai avuto questa esperienza non è biblico io non seguo le tue esperienze e tu non sei tenuto a seguire le mie esperienze tu sei tenuto a giudicare le mie parole se sono bibliche è duro è duro questo parlare ma il cristiano è anche una persona dura Gesù non andava dicendo Sire la signoria vostra è alquanto un po' serpentina no diceva rassa di vipere ecco cosa diceva prendeva la frusta non per darla addosso alla gente perché l'ha data addosso alle cose ma era un uomo duro rassa di vipere che vi ha insegnato a fuggire a dire avvenire quando parlava di questi falsi apostoli non quando parlava della povera gente indifesa ma dei falsi apostoli falsi ministri che stanno ingannando tanto cominciando da questo fratello che ci ha scritto che è completamente in un mare di confusione poverino e noi dobbiamo aiutare queste persone a uscire fuori da chi non procaccia la parola di dio vera ma non è tutto qui romani 3 24 essendo gratuitamente giustificati per la grazia di esso per la redenzione che è in cristo gesù gesù è venuto si è fatto uomo ha vissuto una vita senza peccato ha cominciato il suo ministerio ha portato avanti il suo ministerio è morto è risorto è andato alla destra di dio intercede per noi in lui è l'unico nome per il quale possiamo essere salvati solo in gesù nel suo sacrificio nella sua morte nella sua resurrezione per il suo sangue i credenti che si trovano che sono tutti costoro questi sono costoro che hanno imbiancate le loro vesti nel sangue dell'agnello il liquido che dà redenzione che salva che dà vita eterna è il sangue dell'agnello non è il liquido dell'acqua costoro dicono che il battesimo viene fatto nel nome di gesù non per la trinità e per il perdono dei peccati e poi più avanti dice il battesimo fa parte del processo di salvezza falso io prima vengo salvato dopo vengo battesato in acqua ovviamente quando vengo salvato sono chiamato a mettere in pratica i comandamenti del signore dopo la salvezza e il primo comandamento che io devo mettere in pratica è quello di battezzarmi dopo essere salvato e il secondo comandamento che devo mettere in pratica è celebrare la cena del signore o la santa cena perché battesimo nell'acqua e cena del signore sono due comandamenti correlati di questo ne abbiamo già parlato in un video che trovate nel nostro canale il quale ha dato se stesso per prezzo di riscatto per tutti secondo la testimonianza riservata ai propri tempi ebrei 9 12 15 e non per sangue di becchie e di vitelli ma per il suo proprio sangue è entrato una volta nel santuario avendo acquistata una redenzione eterna perciò che se il sangue dei tori nell'antico testamento le persone trovavano riscatto attraverso il sangue dei sacrifici ma questo sangue prefigurava il vero sangue perché il sangue di animali come già detto nel video precedente non può salvare nessuno se il sangue di tori e di becchi e la cenere della giovenca qui parla della paraduma della giovenca rosa di numeri 19 sparsa sopra i contaminati santifica alla purità della carne quanto più il sangue di Cristo il quale per lo spirito eterno ha offerto se stesso puro di ogni colpa Dio purificherà egli la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'idio vivente perciò egli è mediatore di un nuovo patto testamento a ciò che essendo intervenuta la morte per il purgamento delle trasgressioni sono state sotto il primo testamento i chiamati ricevano la promessa della eterna eredità ebrei 9 22 dirà e presso che ogni cosa sia purificata con sangue secondo la legge senza spargimento di sangue non c'è remissione senza spargimento di sangue non c'è remissione l'acqua non lava i peccati di nessuno l'acqua l'unica cosa che te bollava moto sto per di però siccome stiamo parlando di cose sante e che prof voi ce le volete togliere l'acqua il battesimo in acqua è un simbolismo dell'uomo che muore a vecchia vita viene sommerso e nasce a nuova vita l'acqua non salva il sangue salva il credente prima si salva prima accetta Cristo dopo viene battezzato ecco perché non si può battezzare i bambini i neonati i bambini piccolini di 4-5 anni neonati quello che non possono essere battezzati il sangue lava i peccati senza sangue senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati fratello ancora li giustifichi? ancora li giustifichi? se dopo questo video ancora li giustifichi io rinuncio ti continuo a rispettare e amare ma rinuncio con te lo dico con rispetto fratello badiamo bene a quello che è scritto ebrei 10-4 fratelli separati il fatto che ci sono altri come dici tu che non fanno parte di noi non sta dicendo che devono avere un'altra dottrina come tu stai in modo in buona fede asserendo tu sei un caro fratello e io ho il massimo rispetto per te però proprio perché ti amo ti dico anche la verità e spero che questo video apra gli occhi a qualcuno perciò che egli è impossibile che il sangue di toria di becchi tolga i peccati si fa sempre riferimento al sangue mai all'acqua ci sono 10.000 passaggi noi ve ne stiamo dando alcuni fratelli i passaggi sono 10.000 quelli ambigui che usano loro sono due tre che adesso andremo a vedere che sono completamente decontestualizzati primo secondo sono tre passi davanti a 10.000 passi terzo quarto sono completamente contro il ragionamento biblico che vi stiamo portando avanti alla luce della Bibbia stessa no ma aspetta tutto capitolo 10 tu non hai voluto né sacrificio né offerta tu mi hai apparecchiato un corpo tu non hai gradito olocausti né sacrifici per il peccato allora io ho detto ecco io vengo questo è un salmo egli è scritto nel rotolo del libro io vengo per fare oddio la tua volontà avendo detto innanzi tu non hai voluto né gradito sacrificio né offerta né olocausti né sacrificio per il peccato parlando degli animali i quali si offre offriscono secondo la legge egli aggiunge ecco io vengo per fare oddio la tua volontà egli toglie il primo per stabilire il secondo e per questa volontà siamo santificati noi che siamo per l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta e non che c'è lì l'ostia che diventa che diventa la vera carne di Cristo la transustanziazione e tutte queste sciocchezze qua una volta non si ripete e oltre a ciò ogni sacerdote e in pie ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici come la transustanziazione il quale già mai non possono togliere i peccati ma esso avendo offerto un unico sacrificio qui viene annullata la transustanziazione l'ostia che diventa carne e il vino che diventa sangue no questi sono simboli per i peccati si è posto assedere in perpetua alla destra di Dio intercedendo per noi dirà noi rimanente aspettando finché i suoi nemici siano posti eccetera 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 vogliamo leggere anche prima Pietro vediamo se prima Pietro 1.19 vediamo se me lo prende così ah sì col prezioso sangue di Cristo come dell'agnello senza difetto né macchia siamo stati salvati non con cose corruttibili argento o d'oro siete stati riscattati dalla vana vostra condotta condotta insegnata di mano in mano ai padri ma siamo stati riscattati col prezioso sangue di Cristo prima Pietro 2 la quale ha portato gli stessi i nostri peccati nel suo corpo sul legno a ciò che morti al peccato viviamo giustizia per lo cui il lividore noi siamo stati sanati 6.53 le nostre malattie sono state portate sul legno col sangue la vita eterna ci è stata data in quel legno col sangue con la morte con la risurrezione mai con l'acqua mai con l'acqua mai con l'acqua mai con l'acqua il battesimo è fatto nel nome di Gesù falso il battesimo dà perdono per i peccati falso il battesimo fa parte del Vangelo e del processo di salvezza processo di salvezza falso io prima vengo salvato dopo vengo battezzato non si battezza chi non è salvato non si battezza chi è indemoniato se uno in un battesimo risulta indemoniato non andava battezzato quello dice dimostra che quel battesimo viene fatto a chi non doveva essere fatto potrei proseguire prima credi poi accetti poi confessi nasci di nuovo poi vieni battesato in acqua non mi metto adesso a entrare che chi confessa Gesù Cristo deve essere subito battezzato in acqua subito perché non è così ho già fatto un video non è così nella Bibbia è sempre così ho già fatto un video abbiamo io non è un giorno che sono nella fede abbiamo da sempre migliaia di casi di persone che vivono una vita licenziosa di tutti i peccati peggiori di questo mondo ma vanno in chiesa gloria a Dio accetto il Signore li prendono li buttano in acqua peccatore bagnato entrato peccatore bagnato uscito continuano a vivere la loro vita di licenziosità non sta a te ma beata a te non sta a te ma beata a te tutti i giudei tutti quelli che hanno confessato Cristo e tutti quasi tutti che hanno confessato Cristo nel nuovo pasto i primi credenti erano tutti giudei che già vivevano il giudaismo conoscevano le sacre scritture aspettavano il Messia e quindi nel confessare Cristo avevano già capito tutto e anzi rischiavano pure la vita e venivano battezzati subito e attenzione a contestualizzare dice e allora quando Paolo ha come si chiama ha battezzato il carceriere che era il carceriere di Filippi correggetemi sotto il video se sbaglio era il carceriere di Filippi che ha battezzato lui e la sua famiglia ed era un gentile tanto per cominciare stiamo parlando di uno dei dodici apostoli che avevano tutti e nove i doni tutti e cinque i ministeri avevano il discernimento degli spiriti c'era stata l'opera del Signore era certo che veramente era nato di nuovo e giustamente se uno veramente nasce di nuovo può essere subito battezzato ma se veramente nasce di nuovo ma se no ma glielo vuoi spiegare quello che sta facendo vuoi vedere se veramente ha capito o se magari come fanno alcuni che vanno al mare anche noi abbiamo fatti i battesimi al mare per carità non è quello gloria a Dio magari sempre magari tutti i giorni tranne che l'inverno se no io fai via un corpo vorrei specialmente persone anziane che vanno al mare chi vuole essere battezzato venga si tuffi in acqua e fanno la mucchiata in acqua ma poi gli dai la palla e si mettono pure a giocare a palla a canestro attenzione perché questi insieme ad altri questo insegnano qui c'è scritto questo e ancora tu li vuoi difendere? ma non è tutto qua no c'è ancora dell'altro vedetelo vedetelo conoscete la Bibbia? giudicate? o non vuoi giudicare? ah non vuoi giudicare? tu non giudichi? e allora se non giudichi non giudicare neanche questo video non dire che io non devo dire quello che sto dicendo perché stai giudicando non dire che è sbagliato quello che io sto dicendo perché stai giudicando non dire che io devo pensare questo e quell'altro e non devo pensare questo e quell'altro perché stai giudicando e soprattutto accetta tutto quello che io dico perché giustamente tu non giudichi e sono spiegato la mancanza di conoscenza delle sacre scritture porta il credente alle volte neofita alle volte imprudente che si ferma Giovanni 3,16 e tutta la sua vita la passa in Giovanni 3,16 e non va oltre non sai in cosa credi non sai perché credi in cosa credi e non sai difendere quello in cui credi siamo saldi nella sana dottrina viviamo ed esperimentiamo la sana dottrina occhio a quello che conosciamo occhio a conoscere bene la sana dottrina i tempi che ci circondano sono tempi duri e difficili là fuori è pieno di lupi rapaci che vogliono le vostre anime impariate a crescere e a non essere gn 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 oddio mi sento oddio mi casca una briciola in testa satana mi attacca vai avanti fortificati riprendi satana nel nome di Gesù sgrida satana nel nome di Gesù la redenzione è per sangue non è per altro liquido tipo l'acqua secondo Timotio 4 2 7 dice che dobbiamo riprendere severamente certe situazioni Tito 1 10 Tito 1 quanto tutto vi sono molti ribelli molti cianciatori seduttori di menti mente spirito e anima nel linguaggio originale principalmente quelli della circoncisione a questi conviene turare la bocca quello che stiamo facendo noi e che dovrai fare anche tu lo dico con amore fratello se veramente amiamo la parola di Dio dobbiamo aiutare questi malcapitati che ci hanno scritto ah certo poi sono fatti i nostri perché la persecuzione arriva che gli ha detto Paolo a Timotio chiunque voglia vivere l'Evangelo di Gesù Cristo sarà prospero e pieno di esordi Mercedes piscine ville a cinque piani o forse gli ha detto sarà grandemente perseguitato qual è stata la vita di Paolo sapete che cosa dice questo movimento che nessuno deve avere malattie e che non bisogna decontestualizzare il fatto che Paolo è stato colpito da una malattia ah noi decontestualizziamo falsi falsi che altro dicono secondo la Bibbia chiunque sia pentito dei propri peccati era veduto cioè chi ha deciso di abbandonare i suoi peccati e abbia creduto in Gesù Cristo a chi può essere battezzato allora secondo la Bibbia chiunque sia pentito dei propri peccati era veduto quindi c'è un po' di contraddizione prima dicono che il il come si chiama il battesimo salva poi dice che se 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 uno si è pentito si è ravveduto dei propri peccati può essere battezzato ma se si è ravveduto e già e ha invocato il nome di Dio è già salvato quindi come vediamo c'è contraddizione e laddove c'è contraddizione non c'è la luce di Dio non c'è lo spirito santo come può uno che non ha lo spirito santo date lo spirito santo a te fermo restando ci sia qualcuno che ti dà lo spirito santo ma io ho visto tizio che ha pregato e quello ha ricevuto lo spirito santo bravo ha pregato ha pregato se il padre vuole lo lo dà e non come facevano i primi dodici apostoli che te imponevano le mani e ricevevi lo spirito santo ecco perché l'apostolo Paolo gli ha detto a Timotio non imporre precipitosamente le mani ad alcuno di questo ne parleremo tra un po' occhio a conoscere bene il contesto biblico occhio a conoscere bene il contesto biblico noi facciamo questi video perché nel nostro piccolo vediamo contesto nel nostro piccolo noi siamo dei piccoli strumenti piccoli strumenti fratello io so di essere un piccolo strumento io lo so so di essere fallibile lo so so di essere il primo grande peccatore e so che non dovevo neanche stare qui a predicare e se io sto qui a predicare per la grazia di Dio che un ex balbuziente sta a predicare è un miracolo grandissimo io non dovevo stare qui a predicare far parlare un ex balbuziente che prima di entrare nei posti e mi viene da piangere faceva così per riuscire a di tre parole attaccate l'una all'altra è un grande miracolo di Dio secondo la Bibbia in tutti gli esempi biblici le persone vengono battezzate immediatamente dopo aver creduto ne abbiamo già parlato da nessuna parte la Bibbia afferma che prima del battesimo si deve dimostrare di vivere una vita esemplare e di essere un fedel membro di chiesa secondo l'opinione di un pastore o di un leader ne abbiamo già accennato qualcosa e comunque abbiamo fatto già il video non chiedetemi dove sta perché non me lo ricordo io dimentico lo sapete che io soffro di amnesia non è una novità ho questo ho questa grande cruce io dimentico le cose ecco non ci posso fare niente alcuni dicono che chi dimentica le cose è perché non ha la chiamata di Dio non ha il ministerio non ha questo non ha quell'altro non ha lusione non me ne importa niente io non so se ho un ministerio da parte di Dio e lo dico con sincerità io non so se io ho ricevuto il ministerio da Dio non lo so dice e allora perché lo fai? sai perché lo faccio? perché predicare l'Evangelo non è peccato e nessuno andrà mai all'inferno per predicare l'Evangelo correttamente ecco perché lo faccio è perché tutto sommato il Signore ci dice a tutti di predicare l'Evangelo se poi io ho il ministerio non vedo l'ora di saperlo me lo chiedo anche io poi ci vuoi credere ci credi se pensi che sia falsa umiltà è giusto che tu continui a pensarlo ci mancherebbe siamo in apologetica forte e quando si sta in apologetica i toni sono alti sono accesi sono molto accesi Gesù quando difendeva e riprendeva era fortissimo e lo stesso spirito è in noi senza peccare perché non stiamo peccando anzi la potenza per una nuova vita viene dal battesimo fratello mio se dopo questa serzione tu li continui a difendere veramente non lo so che dirti la potenza viene dall'acqua dal battesimo ma ho capito perché battezzano solo nel nome di Gesù certo lo spirito santo lo tolgono completamente perché a casa mia la potenza la dà lo spirito santo la potenza per una nuova vita viene dal battesimo sta parlando del battesimo in acqua che può essere battezzato in acqua sta parlando del battesimo in acqua la potenza per una nuova vita viene dal battesimo in cui l'uomo vecchio vedi fa riferimento al battesimo muore con Cristo e noi risuscitiamo con Cristo la potenza del battesimo è il contesto ideale per cacciare subito qualunque demone falso abiti nella persona che si è battezzata ottenendo una liberazione potente sovranaturale non sta nella Bibbia sta corrisponde esattamente alla mail che ci ha mandato il fratello il fratello ha detto la verità non si può difendere queste persone se io vado in fatti degli apostoli capitolo 1 il Signore Gesù Cristo dice quando lo Spirito Santo verrà su di voi voi riceverete potenza lo Spirito Santo è la nostra guida la nostra luce lo Spirito Santo ci rivela il futuro lo Spirito Santo ci libera rompe le catene lo Spirito Santo ci dà luce lo Spirito Santo ci dà intendimento le scritture le capiamo per lo Spirito Santo e non per un bagno in acqua hai bisogno di altro ma non è tanto a te che lo dico perché tu sei un caro fratello e io ti stimo e ti appresso tanto poi non sto facendo il tuo nome massimo rispetto e ti amo in Cristo Gesù perché so che sei un fratello che magari io avessi un fratello come te ma proprio perché ti voglio bene a te e voglio bene a tutti quanti noi diciamo insegniamo la parola di Dio per quei pochissimi che l'accetteranno ok allora da dove tirano fuori questi che l'acqua toglie il peccato che il battesimo toglie il peccato vanno a prendere quei due o tre versi e ci vanno a costruire un castello se tu vai infatti degli apostoli 2.38 2.38 2.38 è scritto Pietro disse ravvedetevi e ciascuno di voi sia battesato nel nome di Gesù Cristo nel nome di Gesù Cristo l'abbiamo già spiegato il battesimo si fa nel nome della Santissima Trinità perché qui sta raccontando una storia non sta dando dottrina come ha fatto Gesù in Matteo 28 che ha dato dottrina e questo viene fatto in remissioni dei peccati domanda l'acqua secondo questo passo toglie i peccati? abbiamo visto di no però siccome apostati ce ne sono allora intanto abbiamo un verso contro diecimila ma vi voglio far notare altre cose cari fratelli e amici che siete in buona fede e che siete sinceri con voi stessi e soprattutto che amate la parola di Dio guardate quello che c'è scritto qua prima Pietro prima Pietro 4.8 avendo inanzi ogni cosa vabbè cambiamo un po' versione perché qui parla di carità io vi voglio dare il termine amore soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché dobbiamo avere amore gli uni per gli altri perché l'amore copre moltitudine di peccati domanda l'amore lava i peccati del peccatore? qualcuno dirà no perché qui l'amore non lava i peccati del peccatore mentre invece qui l'acqua si laverebbe laverebbe i peccati del peccatore perché questo sì e questo no è una domanda è una domanda visto che dobbiamo prendere i passi fuori dal contesto allora prendiamo anche questo ma mica è finita qua allora se io vado in Giovanni 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 20 punto 2 3 è giusto ci ho messo la C e non lo capisci no c'è ragione a chi rimetterete i peccati saranno rimessi a chi li riterrete saranno ritenuti domanda da quando quando cioè stando a questo qua se io perdono qualcuno in automatico i miei peccati mi vengono lavati quindi la redenzione dipende da me se dovessimo ragionare così qualcuno dirà no la redenzione non dipende da te ah dipende dal sangue di Cristo ma lasciamo stare adesso questo argomento che abbiamo già trattato perché qui non è così e qui invece sarebbe così perché l'amore no le opere no il perdono no ma l'acqua sì come vedete non è tanto quello che dice un passo isolato dal contesto ma è quello che dice un passo alla luce del contesto ok qui dice ravvedetevi si è abbattezzato i remissioni dei peccati c'è tutta una storia che si parla di ravvedersi prima di questo c'era stato un discorso che Pietro aveva fatto questo discorso di esortazione di accusa dicendo voi avete crocifisso il vostro messia voi siete dannati loro si sentirono compunti nello spirito nell'anima accettarono e confessarono di essere dei peccatori dicendo che dobbiamo fare per essere salvati ovviamente inteso confessione quella confessione li ha salvati allora visto che voi avete confessato adesso ravvedetevi e no che non si è mai visto nessuno come dicono loro che che noi pastori diciamo che prima di fare il battesimo uno non è scritto da nessuna parte che deve avere una vita congrua ai sani insegnamenti dell'Evangelo falso ravvedetevi e poi ciascuno ci porti una vita giusta sia battezzato in acqua in remissione dei peccati certo certo perché io confesso accetto il sangue di Cristo mi lava come abbiamo visto nel nel contesto della sua parola e non che l'acqua mi toglie il peccato come l'amore non 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 toglie il peccato copre moltitudini di peccati questo viene spiegato altrove non ve lo do per motivi di tempo c'è che quando qualcuno ti fa del male pecca contro di te l'amore passa sopra questi peccati che ti vengono fatti lo comporti lo sopporti lo ami preghi per lui idem per questo vanno a cogliere dei passi e li decontestualizzano e questi sono i pieni di Spirito Santo e fanno sto lavoro qua infine lo Spirito Santo dopo essere battezzati in acqua dicono che tutti ricevono lo Spirito Santo e parlano lingue quindi lo Spirito Santo viene solo secondo loro durante il battesimo nell'acqua questo è falso questo è falso se tu prendi Atti capitolo 10 troverai la storia del carceriere che era il carceriere di Filippi no 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 non è carcere io sto a fare un po' di confusione con questo carceriere abbiate pazienza allora Romani 10 parla del centurione di Cornelio Pietro subito dopo disse lo stesso visione che avevano i mandati da Cornelio ok ecco tre uomini quanti giorni sono passati fino a questo era digiuno ora il Signore ha risuscitato e gli ci ha comandato mentre Pietro teneva ancora questi ragionamenti stava parlando con i gentili lo Spirito Santo cade sopra tutti loro che udivano la parola tutti i fedeli della circoncisione i quali erano venuti con Pietro stupirono che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sopra i gentili poiché gli udivano parlare diverse lingue magnificare il Dio allora Pietro prese a dire può alcuno vietare l'acqua come vediamo il Signore ti può battezzare anche prima del battesimo in acqua o dopo o quando a lui piaccia e non è un qualcosa di contestuale come insegnano questi dietro quelle lingue c'è qualcosa che non va tanto più che sono lingue molto strane e alcune non sono manco lingue perché io ho visto la vera opera di Dio io stesso lo Spirito Santo e non è altro che un ma che lingue sono ma che roba è sì come faceva Bud Spencer e Terence Hill da 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 è una pagliacciata dice c'è tanta gente in buona fede lascia stare la gente in buona fede lascia stare che il Signore magari può operare in qualche poraccio e scusate il termine malcapitato io ce l'ho con i responsabili si fa accenno a che ci sono dei miracoli la cosa del trucchetto della gamba che si allunga è stato smascherato come trucchetti e la maggior parte di quei miracoli sono falsi e anche se ci fosse un vero miracolo anche dove stanno i falsi movimenti Satana fa dei miracoli e alle volte anche Dio stesso ha misericordia e li fa ma Matteo 7 parla di che ci sono falsi miracoli ovvero che comunque i miracoli non sono indice di salvezza e quando qualcuno di questi viene da te e ti dice di fare miracoli non gli fare il solito non gli far fare i soliti miracoli da quattro soldi la gamba che si vede che ti fanno vedere l'uccio le perlanterne portalo in un centro di malati terminali dove ci sono i malati di AIDS e fagli guarire un malato di AIDS Satana non può guarire nessuno di AIDS Dio si e ne ha guariti molti e se sei malato di AIDS non andare da questi cialtroni chiuditi nella tua cameretta mettiti in ginocchio alza le mani al cielo che Dio ti tolga l'AIDS se il Dio è potente di farlo come può non farlo lui decide l'importante è l'anima ma il Dio ancora oggi guarisce guarisce e tu fratello che mi hai detto queste cose e mi hai anche scritto mi hai detto che tu hai fatto delle preghiere e che il Signore ha operato gloria a Dio per questo io non ho questo dono io ho sempre pregato ma mai nessuno è guarito c'è una situazione a casa mia di qualcuno che sta male non voglio fare il nome prega Dio che possa intervenire perché io non ho questo dono grazie santo all'eterno Dio te ne ricompensi santo all'eterno con potenza di segni prodigi con la virtù dello Spirito di Dio la potenza i prodigi i segni viene dalla virtù dello Spirito di Dio l'acqua non dà potenza è un'eresia in prima corinti 12 7 11 ci sono i nove doni vengono elargiti dalla potenza di Dio attraverso lo Spirito Santo mai attraverso l'acqua l'acqua non dà potenza il battesimo in acqua non dà il battesimo dello Spirito Santo lì non c'è lo Spirito Santo non troverete mai un solo passo nella parola di Dio dove uno che si battezza è indemoniato ed escono fuori i demoni il battesimo non caccia i demoni investigate tutta la scrittura i demoni vengono sempre cacciati sgridandoli nel nome di Gesù Cristo sempre e alle volte questo vale per noi neanche escono perché sono talmente potenti che per cacciarli bisogna pregare non c'è scritto che l'acqua caccia i demoni li difendete li difendete difendeteli 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 io ho finito mi basta e mi avanza li volete difendere benissimo che Dio giudichi dove sta la verità se nella sua parola se in quello che vi abbiamo dimostrato o se sta in loro come li chiamate fratelli separati andategli dietro se gli volete andare dietro io ho finito ho finito è stato un video duro polemico il cristiano è chiamato a fare polemica eppure è parecchia è stato un video duro è più duro quello che soffrono quelli che capitano in questi posti è più duro stanno messi male loro non chi vede questo video chi vede questo video secondo me sta messo bene perché ha conosciuto la verità che è la Bibbia ed è la Bibbia la verità che vi rende liberi non è Alessio Evangelisti non è un movimento non è niente va bene bastamo a essere duri controlliamoci procacciate l'autocontrollo e lo spirito di correzione amén signore grazie vogliamo fare una preghiera normalmente non lo faccio ma me me la sento in cuore signore veniamo a te padre nel nome di Gesù per ringraziarti signore per la tua santa parola in questi ultimi giorni padre abbi pietà signore di questo poco popolo che che è rimasto ancora fedele ancorato all'unica salvezza all'unico nome che è Gesù Cristo solo lui porta salvezza porta pace liberazione solo 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 tu padre hai dato il tuo figliuolo e poi il tuo figliuolo ha parlato con te e tu hai mandato lo spirito santo signore manda lo spirito santo manda il battesimo dello spirito santo a chi non lo ha ricevuto manda il vero battesimo di spirito santo aiutaci a non essere vittime di questi falsi movimenti padre libera libera i cuori dai pace signore dai vita eterna padre prepara questo poco popolo che ti è rimasto per quel giorno quando tu stai per suonare la tromba e rapire la tua chiesa signore facci trovare i vestiti e non i nudi liberaci padre liberaci con la potenza dello spirito santo da ogni malattia da ogni infermità da ogni spirito che non è tuo da ogni sentimento trasformaci rendici nuove creature padre te lo chiediamo nel nome di Gesù che è benedetto in eterno amén gloria a Dio gloria allo spirito santo gloria al padre gloria al figlio grazie per averci seguito e speriamo che questo video sia stato di aiuto a qualcuno con voi è stato sempre Alessio Evangelisti e se Dio vorrà ci si vede al prossimo videoprogramma Shalom Grazie a tutti